Ah vè, mi farei stile buone, se mi stiasca tigli cranioi, tigli ovaccioi, semplici, povasi prendi molte dameggio, mentre ho morti c'erili, e sta straforte. Ah fecca, ah ne, ok, ne, mi ne vado a scitire, mi semplici attendo cittire. Chi è via stasaria diablo? No, buone. Ah vè. Ah vè, mi vedi sui pafuma. Do, vengo al mie. Ok, buone. Ne, 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 ne. Mi tien volas, yes, dankon, tien. Che la pafuma diablo è straforte della sagoyonetoi, perché ili contrabattalu. Chiar, chi è la pafuma diabloi, chi è la sagoyonetoi, può essere esti tre zangerae. Se ili povas, ma fortighi unul alian, ti ho povasi, è tre, tre buona, per me. Do. Ci, 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 di nuovo? Ah, già ho casato io. Ancora è stas... Do, è stas entute almeno tre pafuma di diabloi. Mi ne rimacchisti a montare. Mi stiis che è stas almeno due, mi siete. In fact, è stas più due. Do. Mi pensas che, ebbene, non ili è stas mortai, chiui? Do. Mi sorgono per la sagoyonetoi di nove. Se mi puoi fare giù, mi fare giù la stuola, mi... Mi sono scontenta. Ancora resta almeno uno diablo. Oh, no. E' stasciam cittia. Oh, fec. Ah, mi ne ho visto per tre passi. Ah, mi ne ho visto così. Mi ho visto che ancora non ho bisogno la... La biblon. Biblon. Ok, biblion, libron. Mi chiam volas diri biblion. E mi provas... Gimini diri, insomma. Libron. Ciam mi diris biblon? Oh, no. Non aveva senso. Senso. Tu. La sagotrafis vinto. Irwa la sagonetoi espone. Ok. Bien. Mi devo semple tra... Preter curi. Esperante che la sagoyonetoi trafasilin. Calde nove. Oh, mi ne ho visto per te passi. Ah, fec. Prendi sto... Tiom da da maggio. No. 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 morti. Mi potevo usare quella candela che volevo andare, per proteggere me. Ok, mi avevo ma qui, mi avevo... Tommi, mi avevo il più buono. O, per quello e che ho spero non faccio un errore, utilizzando mio libro quindi vorrei andare alla ovatore. Ili ho avi. Mi avevo più chance qui. Mi ancora penso che avevo venti uguali ecco un po' di potenza, quindi questo è un po' di rinda quindi tutte le bombombe dentro la botella che volevo prendere e penso che ora devo ma è semplicemente ma è un po' di bombombe bene, ancora ho due vifpomento di queste buone ok, penso che ho dovuto fare questo, e ora 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 non ho più ma ho più ma provo qui bene bene, mi irò non è stato... oh, beh ho, ecco, mi ancora non vedo il tornado e poi prendo damage dopo evitare la cugla non solo il tornado ok, da questa occasione penso che mi probabilmente provo la ricomincia della antara nivell e e denove provi citi un postio mi non penso che ciutio è ciutio è che che penso che che ciutio è molto tro malagrable 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 perdono ok, allora grazie per voi aspettate e ciutio alia poi ho l'ho 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 l'ho